Oggi è l'Argaianti 2019 che viene festeggiato negli Stati Uniti d'America da Prem Ravatt che è il figlio di Sri Hans che io ho realizzato nel 1980 come regalo del dono della conoscenza che mi ha fatto e di cui faccio tesoro tuttora, tutti i giorni e sempre di più. Per cui volevo contribuire con queste immagini in questo giorno della celebrazione dell'Argaianti che sta molto a cuore a Prem Ravatt e anche a me perché quando io sono nato il maestro della conoscenza era lui, non lo sapevo allora ma lo so adesso. Per cui è veramente un grande piacere e onore poter mostrare l'immagine di un regalo che gli ho fatto e dietro c'è la Davida che è sempre quel regalo in evoluzione e che è nelle mani del boss. Ok, questo è il mio contributo per l'Argaianti. Ok, questo è il mio contributo per l'Argaianti. Ok. Ok. Ok.